Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui per mostrarvi come ottenere l'anello delle calamità. Bisognerà recarsi alla vetta dell'Arcidrago ed usare la stessa gesture che abbiamo usato per arrivare in questo luogo davanti a questo altare. Invece per ottenere il set di Avel, una volta aver ucciso appunto Avel nella vetta dell'Arcidrago, ci recchiamo a Forte Farros e dove prima c'era il demone del rifugio troveremo il set completo di Avel. Spero che il video vi sia stato utile, vi invito ad iscrivervi, a mettere mi piace, bella!